Due mesi più la cassa di Dio? E poi è più la cassa di Dio, la cassa di Dio diciamo che è una delicenza, che è un mesi in mezzo che ne è passata. Ora ne hanno passato solo tre mesi, per quelle che noi hai consorzionati, solo tre mesi. Ora poi loro hanno dato un acconto sulla raffinazione, sulle strutture, perché su quelle congelate noi stiamo cercando di avere la sostanza dell'altro. Quindi noi speriamo che qualcuno, il giudice, il commissario, la giù come te nea, dà il via a fare, a dire, ad accelerare la procedura.